Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio coordinato finalizzato al controllo delle aree sensibili di Pesaro per la repressione dei delitti in materia di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, coordinati dal personale del gruppo Pronto Impiego di Ancona, hanno controllato il parco Miralfiore, zone limitrofe alla stazione ferroviaria. In particolare i militari, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno messo al setaccio l'intera area del parco cittadino e della stazione ferroviaria, battendo in particolare la zona del parcheggio e dei sottopassaggi. Sono stati identificati sei soggetti, di cui uno di origine extracomunitaria è risultato già destinatario di decreto di espulsione. Grazie anche al sensibile ed efficiente fiuto del cane ebro, hanno potuto inoltre individuare e sequestrare una dose di hashish, contenuta in un involucro di cellofan nascosto tra gli arbusti, già pronta per essere spacciata. Due spinelli confezionati per uso personale, oltre al rinvenimento di elementi utili alla miscelazione di sostanza per endovena, composti da bicarbonato di sodio, un fornellino ed un cucchiaio, abbandonati sul posto. Nel corso dell'anno i finanzieri hanno verbalizzato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 42 soggetti, denunciando all'autorità giudiziaria 15 persone, tra cui due tratte in stato di arresto e una sottoposta a giudizio direttissimo.